Quando ero solo una ragazzina, qualcuno mi ha rovinato la vita e non l'ho mai dimenticato. Mai in un milione di anni avrei pensato di incontrarli da grande e avere l'opportunità di vendicarmi, ma è proprio ciò che ho fatto. Prima di immergermi nella mia storia, mi presento un po'. Sono Ellie e ho 25 anni. Vivo a San Francisco e nonostante una vita veramente dura, ora sono abbastanza felice e ho un bellissimo lavoro. Sono project manager in una fantastica start-up nella Silicon Valley. Lavoro sodo, non solo perché mi piace il mio lavoro, ma perché voglio essere indipendente. Molti amici mi chiedono perché non trovo uno ricco che si prenda cura di me e questo mi fa impazzire. Cioè, sono single per scelta, proprio non mi fidavo dei ragazzi. Vedete, mio padre è una brutta persona e mi ha lasciato l'amaro in bocca riguardo a come mi sento con gli uomini. Quando avevo solo 5 anni, abbandonò me e mia madre a Ellie per andare a vivere con l'amante. Anche a parlarne adesso mi sento arrabbiata. Eravamo devastate e lo implorammo di restare, ma ci lasciò. Dopo le cose peggiorarono per me e mia madre. Mio padre era il capofamiglia e il capo dell'azienda, quindi non c'eravamo mai dovute preoccupare di nulla, ma quando se ne andò mia madre si sforzava per lavorare, ma a volte non avevamo neanche da mangiare. Ricordo che la gente era dispiaciuta per noi e un vicino ci lasciava pacchi di cibo davanti alla porta. Era molto dolce da parte sua, ma anche umiliante. Odiavo papà per averci lasciate in quel casino e odiavo ancora di più la sua amante per averlo portato via. Promisi di non uscire mai con nessuno perché non volevo finire come mia madre. Sapevo solo che gli uomini feriscono le donne e a me non sarebbe andata così. Ogni volta che mi chiedevano di uscire, rifiutavo. Finché è successo qualcosa di folle che mi ha fatto cambiare totalmente idea. Un giorno stavo davvero male e poiché vivevo da sola, sono dovuta uscire al negozio per comprare da mangiare. Quando tornai, mi sentivo come se stessi per svenire. Prima ancora di entrare, sono svenuta sotto il portico. Per fortuna uno dei miei vicini mi ha visto svenire e si è precipitato ad aiutarmi. L'avevo visto solo poche volte di passaggio, ma quando ho aperto gli occhi, vedendolo in piedi davanti a me, ero così contenta. Si è presentato come Brian e non potevo credere a quanto fosse gentile. Si è preso cura di me fino a che non mi sono ripresa. Mi ha preparato una zuppa e mi è stato vicino passandomi un panno freddo sul viso per abbassare la febbre. Più tempo passavo con lui, più iniziavo a pensare che forse mi sbagliavo. Forse non tutti erano male come mio padre, forse Brian era uno di quelli buoni. Non ne vado, fiera, ma avrei voluto fingere di essere ancora malata, solo per continuare a vederlo. Dopo una settimana, ha riso dicendomi, Ellie, non hai più la febbre, mi stai forse usando adesso. Potevo sentire il mio viso diventare rosso, e scherzando dicevo, guardami, ho ancora la febbre. Non volevo che Brian smettesse di farmi visita, a parte mia madre, nessuno era mai stato così dolce con me. Non nascondevo che provavo qualcosa per lui. Iniziamo ad uscire di più. Qualche volta lavoravo fino a tardi, e quando rincasavo mi invitava a cena, e una sera aveva anche acceso candele e musica romantica. E, ragazzi, è stato lì che ci siamo baciati per la prima volta. È stato così bello, e ho capito che non aveva senso negarlo. Lo amavo, e anche lui mi amava. Nei mesi successivi eravamo inseparabili, passavamo insieme ogni momento possibile, e dopo sei mesi assieme, un giorno mi ha invitato a pranzo con lui sul lungomare. Quando arrivai, non potevo crederci, aveva organizzato un picnic in barca. Poi, quando eravamo a largo, guardando verso la città, si è voltato verso di me dicendo, Ellie, non ho mai incontrato nessuno come te prima. Voglio passare il resto della vita a prendermi cura di te, mia cara Ellie. Vuoi sposarmi? Oddio, non sto scherzando. Ho iniziato a piangere tanto che pensavo ci saremmo ribaltati. Quella era la proposta più romantica di sempre. Certo, ho detto sì. Non vedevo l'ora di passare la mia vita con Brian, ed ero così eccitata di iniziare a pianificare il matrimonio. Avevo sempre sognato di sposarmi in un vigneto vicino a Sacramento. Quindi c'era solo da scegliere un posto, e naturalmente dirlo ai nostri genitori. Brian aveva conosciuto mia madre, e andavano d'accordo, ma non aveva ancora incontrato i suoi. Erano divorziati, e Brian vedeva solo suo padre. Sua madre lavorava sempre, disse, e quindi non si vedevano molto. Gli dissi che era importante per me incontrarli entrambi, così ha organizzato. Ero un po' nervosa, ma suo padre era così affettuoso, proprio come lui. Potevo vedere da dove veniva la sua gentilezza. Poi dovevo incontrare sua madre. Siamo andati al ristorante che aveva scelto, e quando siamo entrati ho preso un colpo. Non può essere vero, pensavo. La mamma di Brian non era altri che Sasha, l'amante di mio padre di tanti anni fa. Stavo male, e Brian sentiva che qualcosa non andava. Cercavo di comportarmi normalmente, ma dentro avrei voluto urlare. Brian ci ha presentato, e ha detto che sua madre era il capo della mia società rivale. Poteva andare peggio? Ho dovuto sorridere e fingere di essere felice di incontrarla. In realtà mi sentivo come se stessi per vomitare, e contavo i minuti per scappare da lì. Alla fine, sua madre disse che doveva tornare al lavoro, e iniziai a respirare di nuovo. Ma avevo delle domande, tornando a casa chiesi a Brian di sua madre, e lui disse che aveva divorziato da suo padre venti anni fa, quando lui ne aveva solo sette. Si era trasferita con un altro uomo, che sapevo fosse mio padre. Ma si erano lasciati molto tempo fa, disse, e poi aveva continuato a cambiare fidanzati. Mi rivolsi a Brian dicendo, e questo ti va bene? Se fosse mia madre non vorrei che facesse così. Ma ha detto solo, non mi interessa, ciò che conta è che sia una brava mamma. Riguardo la sua vita privata, può fare ciò che vuole, giusto? Non potevo crederci. Come può Brian essere un figlio così bravo? Sua madre lo aveva abbandonato, e gli andava bene? Non perdonerei mai papà e la sua amante per aver distrutto la vita di me e mamma. E ho deciso che era tempo di vendetta. Aveva reso la mia infanzia un inferno, e ora toccava a lei sapere come ci si sentiva. Con i preparativi delle nozze, iniziamo a vedere sua madre Sasha più spesso. In quei momenti cercavo di avvicinarmi a lei. Un giorno iniziai a lamentarmi del mio lavoro, anche se mi piaceva. E Sasha disse, perché non vieni a lavorare per me? C'è un posto vacante, e tu saresti perfetta per questo. Hai così tanta esperienza. Era esattamente ciò che volevo. Ora potevo rovinare la sua compagnia e guardare la sua vita crollare. Tutti erano sorpresi che lasciassi il lavoro per andare nell'azienda rivale, ma non avevo neanche il tempo di preoccuparmi di loro. Il primo giorno al nuovo lavoro, Sasha mi presentò a tutti nel reparto della progettazione software. Ed è stato lì che incontrai Clark, il capo dipartimento. Era un po' più grande di me, circa 30 anni, ed era ben noto nella Silicon Valley per essere super intelligente. Il dipartimento stava per lanciare una nuova app che avrebbe fatto impazzire tutti, e ne erano entusiasti. Durante il primo giorno non ho potuto fare a meno di notare quanta attenzione Sasha dava a Clark. Era un po' disgustoso da vedere. Flirtava costantemente con lui, e riuscivo a pensare solo che fosse troppo giovane per lei. A pranzo si comportava come una ragazzina, dicendo, Clarky, ti ho tenuto il posto. Non capivo come facesse a piacerle. Continuava a flirtare con lui le settimane successive. Gli portava sempre il caffè e non lo faceva per nessun altro. Poi, nelle riunioni, sceglieva sempre le sue idee. Era piuttosto frustrante. Ho anche pensato di dire a Brian che sembrava che sua madre avesse trovato un nuovo toy boy. Ma un giorno stavo lavorando fino a tardi, e passando davanti alla sala riunioni per andare in bagno, ho sentito Sasha e Clark parlare, e non sono riuscita a trattenermi dall'origliare. Sasha ridacchiava e disse, Oh, dai, Clark, ti darò un altro aumento. È solo un'uscita. Poi Clark disse, Mi dispiace, davvero non posso. Sono troppo impegnato. E davvero, non ho quel tipo di sentimenti per te. Mi dispiace tanto. Ah? Mi faceva così piacere sentire Clark rifiutarla. Non meritava un bravo ragazzo come lui. Tornando al mio posto, ho guardato in sala riunioni e ho visto quanto sembrava giù. Wow, sembrava davvero ferita. Clark doveva piacerle molto. E così il mio piano è iniziato. Le avrei fatto quello che aveva fatto a mia madre. Le avrei rubato l'uomo che amava proprio da sotto il naso. La mia madre. La mia madre. La mia madre. La mia madre. Lo che amava proprio da sotto il naso. La mia madre.